L'Avellino dunque torna al Partenio Lombardi e lo fa conservando l'entusiasmo. La prima notizia è che le due sconfitte consecutive, questo inizio così difficile, non hanno rallentato, non hanno frenato l'entusiasmo dei tifosi. La curva sud esaurita, la tribuna Terminio, come sapete, esaurita grazie alla campagna abbonamenti, restano invenduti solamente una cinquantina di biglietti per la tribuna Montevergine Laterale. Segno che i tifosi biancoverdi ci credono e soprattutto sono curiosi di vedere qui il Foggia e di vedere all'opera nella prima uscita stagionale Michele Pazienza. Proprio il tecnico biancoverde e neotecnico dell'Avellino ha avuto un bel da fare in questi giorni, ovviamente per conoscere la squadra, per cercare di capire cosa non è andato in queste prime due giornate e porvi rimedio. Come lo farà? Probabilmente analizzando la forma fisica degli uomini che ha a disposizione, mettendo ciascuno in un ruolo consono alle proprie caratteristiche, ma anche chissà mai cambiando il modulo. Ci sono due ipotesi al vaglio, perché Michele Pazienza, lo abbiamo detto spesso, non è un integralista dei moduli, può spaziare con la difesa 4, la difesa 3, lo ha già fatto in passato nella sua esperienza al Cerignola. L'Avellino in questo senso è adattabile, per cui non escludiamo che si possa anche cambiare. Ma partiamo da un'ipotesi più percorribile, che è quella che ci riporta alla difesa 4, un 4-2-3-1, leggermente diverso da quello che abbiamo visto in campo fino a questo momento, con Ghidotti tra i pali, la linea 4 formata da Cancellotti e Tito sugli esterni, Cionec e Rigione, quest'ultimo torna dalla squalifica dopo due giornate. A centro campo ballottaggio tra Palmiero e Pezzella, che potrebbe dare maggiore velocità proprio alla mediana, e Armellino che vuole giocarsi le sue chance. Poi dall'Olio Varella dietro le punte è D'Angelo, che però resta in ballottaggio con San Nipoli. In avanti ovviamente Patierno, che tra il confronto con Marconi è quello che ha dato di più fino a questo momento alla causa bianco-verde. Dicevo che non è l'unico modulo disponibile, perché se il tecnico ha avuto buoni risconti, potrebbe anche pensare ad una difesa a tre. In tal caso vedremo Benedetti in ballottaggio con Moulet a destra, e poi Cionec al centro e Rigione sulla parte sinistra, che ritorna a centro campo. Cancellotti e Tito sugli esterni, Palmiero a gestire un po' la palla a centro campo, dall'Olio sempre in ballottaggio con Armellino, San Nipoli in ballottaggio con Sonni d'Angelo, a supportare la coppia di attacco che sarebbe composta tra Marconi e Patierno. Ricordiamo però che c'è Gori, che non è ancora nella forma migliore, ma anche Sgarbi, che accanto a uno tra Marconi e Patierno potrebbe rappresentare una valida alternativa. Insomma, queste sono le ipotesi della vigilia. Bisognerà capire cosa avrà visto di buono e di interessante il tecnico in questi primi giorni per poi applicarlo domenica contro il Foggia.